un caro saluto a tutti eccomi qua nel mio home studio nello studio di spazio informazione libera non vi abbiamo abbandonato in questi ultimi tempi non abbiamo fatto escursioni è vero però ci siamo dedicati a migliorare tutto quello che vedete alle mie spalle tutti i lavori di spazio informazione libera tutti i video nascono da qua quindi è chiaro che ogni tanto bisogna anche migliorare l'aspetto tecnico e quindi abbiamo deciso di fare questo inoltre è stata migliorata la parte musicale perché abbiamo intenzione di inserire nella nostra in una delle nostre playlist di spazio informazione libera anche qualche produzione musicale io tra l'altro vengo dalla musica da piccolino studiamo pianoforte ho fatto il conservatorio quindi doveva essere la mia professione in un certo senso e poi non lo è stato per vari motivi però ad oggi mi è ripresa la voglia di fare qualcosa quindi è giusto che avendo un canale di informazione in qualche modo è giusto che in un certo senso debba contribuire mi sento chiamato proprio a contribuire dal punto di vista musicale e quindi dedicheremo anche una playlist alle nostre produzioni musicali quindi seguiteci seguite i nostri video mettete i mi piace ogni volta che seguite iscrivetevi al nostro canale non vi abbiamo abbandonato continuate a seguirci ciao